Perché aiuta a ritrovare un'armonia del cittadino, della persona all'interno del proprio ambiente, della città e quindi uno stimolo a migliorare la propria condizione. Quindi questo miglioramento significa un miglioramento della costruzione delle nostre città, il miglioramento della nostra attività imprenditoriale, il miglioramento della nostra attività di essere dei semplici cittadini partecipando in consenso civico a quella che è la vita politica dal quale dipende il destino di ognuno di noi. Una maggiore presenza più bella dei cittadini nella politica sicuramente aiuta la nostra società e il cambiamento in corso del nostro paese.